Dopo gli ultimi giorni di stratempo arriva il fine settimana anche su Lecco, siamo collegati con Trebi Meteo e Nikos Chiodetto per scoprire le previsioni del tempo. Buongiorno Nikos. Buongiorno a voi, bentrovate tutti. Allora cosa ci aspetta da sabato e domenica? Beh la situazione vede sempre la flusso di correnti umide da ovest anche se il fine settimana sarà abbastanza bello quindi insomma sole a parte domani sera qualche rapido temporale dal Piemonte verso Comasco e Lecchese però saranno fenomeni fugaci relegati alla serata di domani. Domenica il tempo nuovamente abbastanza bello quindi insomma poi domenica già in mattinata torna il sole. Le temperature in lieve ripresa sfioriamo i 20 gradi addirittura nella giornata di domani. Domenica invece punte di 23-24 gradi quindi saranno un po' in aumento. Nella prossima settimana di nuovo torneranno le piogge atlastiche quindi nuova settimana vedrà nuovamente piogge e rovesci interessare tutta la Lombardia e ovviamente anche Lecchese. E quindi il maltempo non è finito qui per questo maggio ma continuerà anche nei prossimi giorni? Sì sì proseguirà anche la prossima settimana non ci starà l'anticiclone quindi correnti umide determineranno ancora piogge temporali. Grazie Nico Schiodetto e buon fine settimana. Grazie buon weekend a voi.